Ma, 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 ma guarda! Ah, 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 ah! È scurbissima questa roba! Dove è andata? Non contro di me! Ma ragazzi, ha deciso che deve essere qua! Ma qua, ma non gliene frega niente! Oh! Hai capito? Non c'è da stare, non l'è da stare! Eh, tanto se anche mi sbrana qual è il problema! Zitto! Mamma, te Chuck Norris sei in grado di fare questo e altro! Io non l'ho fatto! Uh, che foga! Apri la porta! No, che foga, va dietro la porta! Apri la porta! Vai, che fai che fai? Vai dietro la lavatrice! Vai, Chuck! Ma dici che stai lì? Secondo me sì, lei può fare queste altre! Su, a fare un giretto la Rosie! Ora per me ci cacciate! Ma non c'è niente lì! No, no, lo faceva anche la Lady, perché sente la polverina negli angoli! Oh, oh, mi vedo in pericolo! Quanto è? Andiamo, Rosie! Grazie! Rosie! Meglio che robo... Ambrovo! Tietro non muovere la porta! Avanti, su! Cricetto in caccia! Vai, vai, Rosie! Potevamo mettergli dei pinoli! Perché? Cerca qualcosa ora! Grazie! Grazie.